Il sindaco di Subbiano Antonio De Bari per questa inaugurazione di questo campino dedicato al calcio, ma un campino che vuole essere di tutti, no? Sì, in questa bellissima giornata anche un po' fresca di fine ottobre si è voluto inaugurare questo campino perché era tanto che a questi ragazzi l'avevo promesso. Questo è un campino che ho voluto realizzare, era in campagna elettorale, è stato fortemente voluto da me, voluto anche da Baldarnini come condelega allo sport. È un campo accessibile a tutti, è libero, tutti ci possono venire a giocare, tutti si possono divertire, perciò è un campo per la comunità. È finalmente un'opera che serve alla comunità e a questi ragazzi che possono avere uno spazio suo, recintato, in sicurezza, possono sfogare la loro energia di giovani e bambini e divertirsi. Che è questo qui importante. Mancava in tutta Subbiano, mancava uno spazio in questa maniera, tant'è vero che anche questo durante l'estate abbiamo sempre avuto un po' di problemi per quanto riguardava la sicurezza perché gli spazi purtroppo sono questi qui e sono tutti rinchiusi nella parte sotto il paese. Abbiamo scelto quest'area, un'area bella ampia, bella soleggiata d'estate sia che d'inverno e giocate, divertitevi che è una bella cosa.